ed eccoci qui Lazio che vince 0-2 ottima Lazio direi c'è ben poco la di questa partita ottima Lazio è risultato altamente diciamo che gli sta altamente stretto perché ha avuto anche altre due accassioni soprattutto con Dupali Zaccagni e Cataldi mamma mia ma Lazio secondo me se non fa certe cazzate ce l'ha la squadra buona più che buona secondo me anche più forte della Roma adesso dirò una cazzata ma comunque la squadra ce l'ha secondo me sono questioni dei risultati e oggi ha letteralmente anniglito il Sassuolo Sassuolo mai in campo direi fatto due tiri in porta visto quindi io ero male salvo davvero pochi del Sassuolo anzi forse nessuno e quindi Lazio che vince e domani bisognerà assolutamente vincere a Roma se non sbaglio toccano più alla mezzogiorno e mezzo consigli si salva forse e quindi Lazio che vince quindi adesso Romani tocca assolutamente vince che c'è non passi falsi da fare assolutamente no Lazio che vince quindi meritatamente questo è poco ma sicuro se guarda all'altro Sassuolo poca roba siete voi a dia mia sono oggi davvero poca roba però non è che poi vince sempre ovviamente una squadra medio bassa quindi c'è sta a Lazio se continua così vuole fare una buona stagione ovviamente deve essere un po' più continua e quindi niente io ero in campo ci metto anche Castellanas anche che secondo me è una buona punta ottimo attaccante secondo me e quindi bene così per noi romanisti male e quindi niente però va bene questa è la partita Laura in te mi sembra lontano parente dell'anno scorso davvero male 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 forse migliore in campo del Sassuolo l'unico ai consigli che ha fatto diverse parate un altro migliore in campo della razza secondo me Felipe Anders ha segnato ottima partita ancora sua e quindi niente domani assolutamente vince pronostico per domani Roma secondo me io vedo una Roma che va in svantaggio e poi la ribalta questa idea così manzana tanto triboliamo poco noi altri della Roma quindi però è un pronostico vedremo un po' se avviene quindi uno più gol direi la Roma e vedremo un po' appuntamento a domani grazie